ciao ragazzi prima gara del campionato motornext 2024 è andata malissimo la pista big america era abbastanza in pessime condizioni era in alcuni punti bagnata in altri punti secca c'era molta polvere non si vedeva niente ma partiamo dalla qualifica arrivo per entrare a fare le qualifiche il mio nome non è sull'elenco piloti sono dovuto andare in direzione gara e spiegare che devo disputare la over 40 loro mi avevano messo nella young oggi ho lasciato la barba così si vede che sono anziano la qualifica non è andata benissimo anche perché non giravo da due anni in questa pista e non l'avevo provata ho fatto ventiduesimo posto ma andiamo alla gara gara 1 posticipata di circa un'ora e mezza e l'ho disputata alle tre e mezza del pomeriggio quindi abbastanza in ritardo parto malino subito gran polvere gran mucchione all'inizio cerco di star fuori dai guai mi tocco con un po' di piloti ma le prime curve non si vedeva veramente niente i primi giri sono un po' in difficoltà rimango in attesa poi inizio ad aumentare il ritmo arrivo fino alla quindicesima posizione e buco la ruota posteriore faccio gli ultimi due giri veramente lenti per portare a termine la gara chiudo ventinovesimo purtroppo non avevo la gomma di ricambio nessuno aveva una camera d'aria quindi ho caricato la moto sono andato a casa e niente gara 2 a tra l'altro prima di partire mi è andata in blocco la gopro quindi ho registrato tutto con la gopro vecchia e quindi le immagini non saranno molto belle dai vi lascio al video andrà meglio alla prossima ok 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.